Il tre professionale in Italia proveniente da 15 inereo posto e in diretto al Parasalmi, a 2.12.31 è in matrimoniale. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianca, per la Roma giusturale, Roma, via, Roma e Italia, con un salario subitente di 7 banchi, per un turno di piano per la punta dei paesi. Grazie.